E' attraccata all'alba nei pressi della stazione marittima e nelle prossime ore darà il via ai lavori di escavo. La maxidraga Braidel si trova al porto di Salerno, pronti a partire gli interventi che andranno avanti fino a marzo, poi la pausa estiva per non interferire con la stagione croceristica e la ripresa in autunno. Il dragaggio dei fondali permetterà l'ingresso nel porto delle mega navi porta container e dei giganti del turismo, aprendo prospettive nuove ed importanti per Salerno. Un primo step che parte ora e quindi potranno essere avviate le attività fino al fine marzo, eventualmente prorogabili nella prima quindicina di aprile. Le attività a questo punto poi verranno sospese e credo che in questa fase si farà la parte più significativa, si dragherà in particolar modo la parte dell'area cosiddetta commerciale del porto, ma anche quella dove stazioneranno le navi da crociera. Assessore, si può dire che siamo alla svolta per il porto di Salerno e per l'economia della città? Sì, sicuramente il dragaggio rappresenta una delle iniziative più significative per il rilancio dell'attività commerciale, ma anche croceristica. Tutti sappiamo che le attività legate al mondo delle attività marittime vanno verso il gigantismo navale. vi era la necessità per mantenere la possibilità di concorrere con tante realtà d'Italia, ma non solo d'Europa, del mondo, bisognava adeguare e rendere competitivi il nostro porto con questo intervento. Questo ci consente di guardare con molta più fiducia al futuro, soprattutto guardare al rilancio del settore legato al crocielismo turistico.